si sono no 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 l'olio portato è venuta a farla di una e invece con me ha detto sei venuto a trovare la gina credo che lì è rimasto in prezzo non sarà qualcosa la vivi ha detto la vivi ha detto mamma guarda chi c'è lei ha detto ciao con